ciao ragazzi l'avete riconosciuta questa era la ritmica del muro delle meraviglie a oggi vi farò vedere come tenendo queste due dita ferme mentre cambio 4 accordi costruiamo il muro delle meraviglie i quattro accordi sono mi minore sol re la settima con queste due dita ferme diventano rispettivamente mi minore settima ad sospesa sull'undicesima sol 13 re sus 4 e la settima sus quarta come lo costruiamo il muro delle meraviglie suoniamola in fingerstyle adesso che la suono in strumming se a questo mettete il capo tasto sul tasto due fate gli stessi accordi avrete il muro delle meraviglie originale io non ve la faccio in originale l'importante è che seguiate questa ritmica e adesso vi faccio vedere le mani quindi il famoso mi minore settima undicesima come lo prendiamo dito indice corda 5 tasto 2 il dito 3 e il dito 4 stanno fermi al tasto 3 sulle corde 1 2 suoniamo 6 corde poi aggiungiamo la nota sol e abbiamo il famoso sol 13 poi aggiungiamo la nota sol e abbiamo il famoso sol 13 re sus quarta queste due dita ferme mettiamo il dito 1 al tasto 2 corda 3 e la settima sospesa sulla quarta alziamo l'indice sempre al tasto 2 invece che sulla nota 3 lo mettiamo sulla nota 4 e suoniamo e abbiamo costruito il muro delle meraviglie se vi interessa iscrivetevi al canale e dopodiché vi faccio vedere anche il bridge a questo punto e abbiamo sempre in questo caso un do nona con l'aggiunta dell'undicesima questo è il do nona questa è l'aggiunta dell'undicesima della tredicesima scusate e questo è l'aggiunta dell'undicesima scusate ovviamente dovete mettere il capotasso al tasto 2 e fare gli stessi accordi partendo dal tasto 4 e avrete la tonalità originale ci vediamo alla prossima ricordatevi di iscrivervi e mettermi un bel like e